Oltre 250.000 prodotti cosmetici considerati tossici sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma in seguito ad una perquisizione all'interno di magazzini ubicati nelle province di Brescia, Napoli e Caserta su disposizione della locale Procura della Repubblica. I sequestri sono stati seguiti a carico di quattro persone, legali rappresentanti di altrettante società gravemente indiziate del reato di commercializzazione di cosmetici dannosi per la salute umana. Le indagini delle fiamme gialle del quinto nucleo operativo metropolitano di Roma hanno preso le mosse da alcuni controlli eseguiti presso depositi insistenti nelle vie dell'Omo, della Cisternola e Muraccio di Rischiaro nella periferia orientale della capitale che avevano portato al sequestro di alcune migliaia di confezioni di creme, emulsioni, profumi e deodoranti oltre che di shampoo, tinture e lozioni per capelli, contenenti una sostanza chimica utilizzata per profumare e preparati cosmetici bandita dall'Unione Europea nel 2022 in quanto considerata cancerogena. L'esame della documentazione reperita durante le ispezioni ha permesso di ricostruire la filiera distributiva risalendo ai fornitori che avrebbero importato le partite di merce e luoghi di stoccaggio ubicati a Ono San Pietro, Casoria e Teverola, dove sono stati rinvenuti ulteriori prodotti della specie. I militari, attraverso il RAPEX, una piattaforma telematica dedicata, hanno allertato la Commissione Europea e gli stati membri destinatari delle partite di merce potenzialmente nociva, cedute dagli operatori economici italiani.